Uff, questo tizio penso di averlo visto dentro Fufflix tante volte. Come si diventa poveri? Mikhail Mirzak, 500 mil... Ma tutti i miliardi di follower hanno, 10 milioni di like. Cashflow setup team, aiutiamo le persone a diventare libere finanziariamente. Ai ragazzini di TikTok, ma tu quanti soldi hai? Buoni consigli? Ok, scusate la domanda, ma quindi i dipendenti non dovrebbero esistere? Facciamo tutti i capi o trading online? Già so dove va a parare questo qui. Mario Dose, sono delle idee che tutti possano cambiare vita e il passato magari non deve troppo pregiudicare. Però sto Mikhail Mirzak, secondo Google, ha un passato di ricettazione e furto? Queste sono offese molto gravi, molto molto gravi. Te ne assumi le responsabilità, Mikhail Mirzak. Ricettazione, furto. Cerchiamo se è vero. Finiti in manette, tre cittadini dell'est Europa. Konstantin Calestro, Mikhail Demian e Mikhail Mirzak di 37. Magari è omonimia, non lo so, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Potrebbe essere un' omonimia. Fini in manette, quando? Quando è successa questa roba qua? Marzo 2010. Però in teoria a marzo 2010 aveva già 37 anni, quindi questo tizio ne avrebbe 49 adesso. Non mi sembra lui. E mo' son curioso però. Potrebbe averne 49. Attenzione, attenzione. Attenzione. Venezia, Italia. Dov'è che l'hanno bloccato qua? Peschiera del Garda o Borromeo? Peschiera del Garda, quindi Veneto. Cominciano a coincidere le cose, eh? Rivolgo a te, Mikhail, che sei sicuramente in ascolto. Io da quella faccenda ne sono uscito assolto con formula piena. È stato un incidente. Come si diventa poveri? Ah, questo è facile. Allora, ti trovi un lavoro a tempo pieno e ti metti a lavorare. Mi fa un finto dialogo, sono due persone tipo padre ricco, padre povero, ok? La critica implicita è che se fai il dipendente sarai sempre povero. E questa roba qui mi mette tristezza perché io vengo da quando il concetto di libertà finanziaria e di indipendenza finanziaria significava accumulare abbastanza ricchezza, tale che i profitti che puoi estrarre da quella ricchezza, è più complicata di così, ma semplifichiamola un secondo, coprivano le tue spese. Questo significava accumulare tanta ricchezza. Quel maledetto di Kiyosaki ha trasformato questo concetto in cash flow. Sei un povero di merda, ma hai trovato un modo criminale per fare 1000 euro al mese, sei financial independent. No, non lo eri ieri, non lo sei neanche oggi. Sei uno che fa un altro lavoro. Per essere indipendente finanziariamente devi avere un sacco di soldi. Oppure avere asset che generano un bello yield, che non è facile, perché è uno spesso lavoro attivo. C'è chi è veramente uno che è appassionato di real estate e quindi trova degli affari da poter affittare a affitti piuttosto alti. Però parliamo che se invece di accumulare 3 milioni te ne serve uno e mezzo, invece di due te ne serve uno. Questi ti vendono il concetto che se compri il loro corso, senza una lira, trovi il modo per fare 1000 euro al mese, che non ci arrivano lo 0.01% dei loro studenti, ma per semplice distribuzione gaussiana, e quindi poi sei finanziariamente indipendente. No, sei uno che ha un altro lavoro e che invece di ricevere un sign-in bonus ha pagato un sign-in bonus a qualcuno. Passione, c'è una passione. La criminalizzazione del posto fisso è una roba che mi fa molto male, molto 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 male, perché io nel mio blog, quando parlavo di sogni e desideri, anch'io dicevo non penso che il mio sogno è lavorare in un posto fisso per il resto della vita. Però per arrivare a raggiungere quel sogno c'è bisogno anche di questo. Chi non passa da mai per il posto fisso probabilmente è quello che è l'idea geniale o il creativo che vive da barbone e proprio dopo emerge, il super schillato che ha un'idea e trova qualcuno o il figlio di papà, non è quello che ti paga il 1.500 che fa il corso. Quindi ok che il lavoro da dipendente può non essere allineato con i tempi, che nessuno sogna di entrare in un posto e a 60 anni ancora star lì, però non è neanche da prendere ai ragazzini e spiegargli che il lavoro è brutto. Secondo livello di fastidio. Ti do una brutta notizia, Micael. Ci sono lavori da dipendente che ti danno centinaia di migliaia di euro l'anno. Anche milioni. È tutto sbagliato. Il messaggio, il contenuto, la forma, il concetto di libertà finanziaria detta così. È tutto sbagliato. Andiamo avanti. Va bene? No, sul serio. Lavorerai semplicemente solo fino ai 65 anni. Parte magari, in Italia penso magari. E perché 65? Non lo so, non ho la più palida idea. So solo che questo è quello che fa tutto il mondo. In più però, a quell'età, ti permettono già di andare in pensione. Poi, passaggio numero due, non imparare nulla sul denaro. Ok, questa va benissimo per me. Vabbè, su questa si può essere d'accordo. Se vuoi delegare tutto su come funzionano i soldi, diventi povero. Su questa, ok, ma direi anche grazie al cazzo. Perché tutto ciò che riguarda gli investimenti, le tasse o altro, chi se ne frega, non hai bisogno di sapere niente di tutto questo. Su questa hai ragione. Com'è che diceva Benigni? Benigni quando era Benigni, a tutto Benigni 95, che diceva, ah però salutava sempre. Sì, certo, tu come si chiamano un idraulico, che viene a casa, ti rifà l'impianto, però poi ti violenta la moglie, ti stupra la figlia, ti ruba i soldi, ti sgozza la nonna, però ha fatto anche un bell'impianto, eh? Ok. Solo per i milionari, infatti, tutti quei ricconi guadagnano un sacco di soldi e poi risparmiano sulle tasse. Che miseria. Esatto. Dopodiché, ebbene, la terza cosa che devi fare è prendere tutti i prestiti che ti concedono e spendere il più possibile. Vabbè, anche su questo possiamo dire che è ok, anche se è molto semplificato, cioè, contro ogni forma di debito, va bene se lo racconti a un pirla. Mi piace avere debiti, anche i miei ne sono pieni. Certo, perché stare sempre attento alle tue spese quando sembri ricco su Instagram, che è la cosa più importante? Certo. Criminalizzare, fare debiti per comprare oggetti che non ti servono, per mostrarli sui, grazie al cazzo, grazie al cazzo. Sarà pieno di grazie al cazzo sta cosa qui, eh? Scusa, ma quanti soldi hai tu? 1.500 al mese. Che cazzo? La gente non sa distinguere patrimonio da reddito. Dai, un bel commento, qualcuno sensato, un commento con un po' di like, un commento, raga, pronti a vedere subito sugli altri 69 canali? Cioè, se cerco le parole chiave del video che ho appena guardato, trovo altri 20 persone che ripetono a pappagallo la stessa cosa. siamo a sto livello? Cerco, se non vuoi essere povero, se non vuoi essere povero. Andiamo un po'. Attenzione. Grazie Google, grazie Google. Ma si diventa poveri. Ah, ma questo è facile. Allora, ti trovi un lavoro a tempo pieno e ti metti a lavorare. È identico. Va bene? No, sul serio, lavorerai semplicemente fino ai 65 anni. Ma è identico parola per parola. E perché 65? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. so solo che questo è quello che fa tutto il mondo. In più, però, a quell'età ti permettono già di andare in pensare. Ti spiego perché il commento pronto a vederlo su 69 canali in quanto fa parte di un team di gente che fa gli stessi video con le stesse parole. Ah, quindi stavo commentando un tizio ma che è un bot di un team che fa gli stessi video con le stesse parole a quanto pare. Se tu paghi per farti seguire da loro poi ti fanno aprire un profilo uguale e fanno di punta anche tutti i follower e tutta roba comprata, le use comprate. Wow! Sono entrato nel loop. Ma uno, uno che decide di entrare e diventare bot numero 53 di uno script scritti da altri. Ma perché lo fai? Qual è il motivo? Cioè, non penso che poi tu vendi, anche questo vende corsi? Se guardo il link porta lo stesso sito ma sotto un profilo diverso. Link bio cash ma è identico a quell'altro. Adriano Darie, Roma, imprenditore digitale, membro del team leader di cash flow setup. Vabbè, questo è rip, sei su candid camera, rip, sei su scherzi a parte, cioè, non lo so, ma poi perché uno dovrebbe seguirli più di uno di questi qua? Ma non sei un influencer, non sei un influencer, sei il nulla, sei, non sei, sei un attore, attore pure pessimo. Cioè, quindi, questo qui, che ti viene a dire che fare il dipendente è una merda, adesso lui sta seduto, sta mummificato su una scrivania in attesa che lo scongelino per dirgli cosa, per un capo, un capo gli dice cosa deve dire su, gli fa lo script e lui lo recita in cui dice che non deve avere un capo. Ahahahah. Ironic, he could save others from death, but not himself. No, devo saperne di più. Webinar, e facciamo, e facciamo. Richiedi accesso al webinar? Contagli su Whatsapp, ma non ti trovo mai il mio numero, non ti trovo mai il mio numero, mai. Ma ti pare, ma ti pare, ma ti pare. Quindi, se io vado sul link biocastfossetup.it trovo la diretta di tutti quanti. Allora, un momento, un momento, dove sta l'elenco di tutti quanti quelli che stanno sui flossetup? Ah no, aspetta, questa è un'app. Tutti quegli influencer con il loro link bio è il loro referral code essenzialmente. Aspettate, genio, genio, genio. Vabbè, io voglio scaricare l'app. Non posso, devo per forza entrare da un endpoint. Devo per forza entrare da un endpoint. Non c'è, non c'è un, non c'è un crea account. Non c'è. C'è la homepage di sta merda, la homepage di sta merda non ha, non ha un modo per fare login. No, per fare login, sì. Non ha un modo per fare, per fare sign in. Io non posso accedere a questa roba qua se non so un passato da qualche fuffa merda, da qualche link personale. e questo qui link bio Luca Bucconi. Ecco un altro. Ma tutti uguali, questo è quell'altro che fa i video uguali anche questo qui. Mamma mia. Mamma mia. Posso mandare il link Tyler Dragon? Dai, sì. Dai, ci fidiamo di Tyler Dragon. Mandaci il link che fa la raccolta. Vediamo un po'. 100 euro per comprare quel computer. Salve, vorrei 400 euro se compro quel computer. Certo. Salve, vorrei 400 euro se compro quel computer. Certo. Salve, buongiorno. Vorrei avere 400 euro di sconto su questo computer, per favore. Questo è uscito fuori dal... Questo ha cambiato lo script. Ciao, vorrei 400 euro di sconto per quel pc. Ciao Apple, vorrei 400 euro di sconto per quel computer, per favore. Salve, vorrei 400 euro se acquisto quel computer. Sì. Ciao, vorrei 400 euro di sconto su quel computer, per favore. Salve, vorrei 400 euro di sconto su questo computer. Questo amico, no, questo qui è Michail, a questo punto non è neanche interessante lui, cioè lui è un bot. quindi stiamo commentando questo Cashflow Setup. Sì, ha poi chiesto che cosa fa questo Cashflow Setup. Eccolo qua, Cashflow Setup.net. Dai un pesce a un uomo e lo sfamerai per un gioco. Mamma mia. Vabbè. È un team leader in regione che opera in tutta Europa. La nostra missione è quella di aiutare persone, imprenditori e celebrity, hanno proprio bisogno di te i celebrity, a creare un'entrata automatica. Joe Dea aiuta una celebrity a creare dieci secondi di latenza, tra l'altro, sì. Semplice e adatto a chiunque desideri l'indipendenza. Abbiamo un sistema rigido per cui la giusta dedizione, partecipazione agli eventi, dai, ho soldi. Quindi Davide 20, un dipendente ma che paga e prende soldi a commissione. Madonna mia. I venditori porta a porta. Dimmi pure che ci sta l'incentivo a entrare a entrare a entrare gente sotto di te. Entra automatiche e scommetto che sono quanta gente fa registrare. No ragazzi, voi state perdendo la corsa della vita di questa robaccia. Ma poi perché te? Ma hai 70 anni, hai una famiglia, forse più di una. Io perdo, perdo fiducia nell'umanità, perdo proprio fiducia nell'umanità. I dividendi secondo sti qua. Vediamo un po'. Ehi Michael, è vero che possiedi Apple? Esatto. Apple? È scritto così maestro! Esatto! Ho comprato azioni Apple, il che mi rende proprietario di una parte della società. Wow! Ma è solo per milionari? Niente affatto! Con soli 130 euro, puoi comprare una quota? Se sei proprietario dell'azienda, ti danno una parte dei loro profitti? Esatto! Si chiama dividendo. Wow! Vole investire anch'io ma non so niente! Non preoccuparti, se vuoi investire da zero, te lo insegno! È esattamente proprio... questi non li guardo neanche, ma alla fine questo qui non è... C'è un personaggio come questo qua, no? Io sono Bukons. Cioè cos'è? Il nulla! Poi immagino che quelli che sponsorizza il network, eccoli qua, fanno numeri, quelli che magari che ne so, se vuole farli di testa sua, fanno... Il cervello controlla te, devi dire al tuo cervello dove vuoi andare, mamma mia! Sarebbe bello vederli fra dieci anni che stanno facendo queste persone qua, fra dieci anni, no? Dico, come va l'indipendenza finanziaria? Uno sa fare il gommista starà facendo. Questo farà il gommista fra dieci anni. Non mi fate vedere altra roba di Cashflow Setup, eh?